Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video di Brawl Stars Ebbene sì ragazzi, non sarà il classico gameplay che faccio di solito Ma bensì una nuova serie che porterò, cioè quella delle sfide E consisterà nel giocare varie sfide che vi consigliate voi Oppure che inventerò io, prenderò da internet dove giocheremo dei personaggi Così, tipo quella lì che faremo oggi sarà quella lì dei comandi invertiti Un pochetto diverso, più figo E appunto ci sarà questa vuota, questi personaggi che gioco di solito Oppure che mi piace giocare o che sono a livello più alto E niente, così sarà in questo la sfida Quindi ora spingiamo, vediamo chi ci esce e chi dovremmo giocare I comandi stravalti Vai con lo spin Eeeeh... Uh, mi piace, Abigar Giocheremo Abigar con lo spin, con tutto... Bello, mi piace, mi piace davvero tanto E niente, siamo a ferirci sul gioco Ok ragazzi, ci siamo spostati qua nel gioco e abbiamo cambiato i comandi come abbiamo detto in precedenza E niente, allora giochiamo Abigar, il nostro caro amico Abigar Ed eccolo qui, neanche il più potente forse che abbiamo E niente, giocheremo a Raffa Geller Con i comandi al contrario Papavia Spareremo con... Ci sta impiegando un po' a trovare questa... Non so perché E niente, sarà molto complicato giocare con i comandi diversi Dato che... Mmm... Sono abituato Quindi... Ok... Ok... Ah ok... Mmm... No... No raga... No raga... Non riesco... È tutto così complicato... Ah... Mizzca... No no... Non aprire un win streak, no... Non posso morire... Ma no... Raga... Non riesco... No... Oddio sto fac... È un disaster... What the heck... Raga non ce la faccio... Non ce... Non riesco a fare nulla... Non riesco a fare nulla... Il fatto che sono anche forti... Mmm... No... Raga mi sono scioglieto... Ma... C'è pure quelli forti... Vai vai... Oh... Dai dai... Prendi... Prendi tutto... Prendiamo tutto e scappiamo... Raga che cavolo di comeback... Che... No... No... Muori... No raga troppo forti... Non rompere... Muori... No raga non ci voglio credere... Non ci voglio credere che stiamo vincendo... Non ci voglio credere... Prima partire abbiamo già vinto... What the hell... Sono zitto... Sono zitto... Io... Sono proprio zitto... Ok... Ma ce l'abbiamo pure questo pacchetto qui... Raro... A me non ci interessa... Lo blocchiamo alti modalità e via... Io ho al libido... Raga... Prova al libido con 3 B... Al libido... Vediamo quanto saranno fuori... Vedremo... Vedremo... Anche se siamo davvero fuori... Oppure con i comandi invertito... Quindi... Ragazzi... Mesacche... Mesacche... Non sono... Tanto schifoso come viene detto... Lasciamo parlare... No... Aia... Aia... Vabbè... Io non riesco a direzionare i colpi... Cioè... Guardate... Ci ho troppi pochi neuroni per direzionare bene questi colpi... Mori... No... Ok... Ok... Non vi preoccupate... Tanto... Allora... No... Che palle... Maledetto... Maledetto... Dai... Calmi... Calmi... Aia... No raga... Ok... Ora parte il pull up... Parte il pull up... Boom... Si... Il re... Il re... Prendi tutto e scappa... Prendi soldi e scappa... Questo non pese per vecchi... La tramonto all'alba... L'alba di molti gioventi... Rappi... Rappi... Rappi gang... Ma raga... Sto dominando pure con i comandi invertiti... Dovete stare pure zitti... Ma perchè è l'algo? E to' lagga... To' lagga... Boom... Bitch... Chi è il migliore? Guarda... Io... Io tutto storto... Prendo e scappa... Prendo con i soldi... Via... Con il malloppo... Il migliore è quello con i comandi al contrario... The King... Fucking... World... Massi... Massi... Siamo avanti... Sì... 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 Troppo forte... Troppo forte... E niente... E niente... Questi ci... Facciamo a fattura... Un freddo misto... Ci facciamo... Guarda... Ci sta... Ci sta... Ci suicidiamo apposta... Per... Perché... Andiamo là... Facciamo un po' di danni... Così che ritiamo la ultimate... Madonna... Ragazzi... Stendiamo i soldi... Di soldi e scappa... a pullu scappa scappa non fa ne ho la scappa un pane toglie oh bro che vuoi fare che vuoi fare tu mi fai brutto tu mi fai brutto tu mi fai brutto hai capito c'è mo a scemo ah no no frank frank push up no bro bro buttati finita è finita che c'è infamato no ma che è successo no avevo perso per colpa di frank la mamma ma che fai ma che fai frank ovviamente il team che trolla sempre raga fisso anche quando faccio challenge importanti e benessi c'è per i giorni proprio per religione da amiche frank si vare tanto vinciamo vinciamo madonna ragazzo perché una cosa impossibile di oh ma va no sono una lotta raga come dicono un po si prendi tutto la mia mano bro dammi una mano vaffa non mi serve una mano per quel bro bro aia oh che cavolo dai boom che volevi fa che volevi fa che volevi fa e sgonski se è così se è così sgonski nel sgomp no son pazzo son pazzo son pazzo son pazzo 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 assurdo assurdo io ho finita chi mi ha nominato la partita e gli schiposi di prima non lo accetto dai stiamo facendo più del previsto mi aspettavo molto molto peggio credo che c'è l'autolock però noi non lo schifiamo ci hanno devastato perdono perché mi laghi dai no fk a pulì via via prendi solo di via via vai ammazzano però tu sei il tanto comunque non è per di orca trotska aia via siamo scappati vai no bro aia porco cavolo maledetto sono stupido managgia del mio dito stupido però buttati bro buttati 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 dai buttatevi dai raga butta butta vai grandi no raga via via buttati buttiamoci buttati bene buttati bene bro fai cacare fai schifo fai schifo una persona orribile ma fai schifo fai il codo mutato e fai schifo ma disinstalla sto gioco no raga non è possibile non è possibile non è che sono forte e cario anche con uno eh con la mano destra avete capito cioè non è possibile la gente fa così schifo il mio bocca la madonna è impazzito quello lì pazzo furioso il gravato vabbè ma fai cacca cavolo tu sei schifo bro butta che un tank schifoso bro ma vaffan bagno quel orso del cavolo troppo schifoso tu rispetto la nostra schifo oh oh mi ha grabbato mi ha ciucciato come un gambero raga vabbè vabbè no sto laggando pure vabbè ma questo è un teddy burro vabbè 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 non posso farci niente c'è un bio prank che c'ha qualche problema non posso farci niente raga non lo accetto non lo accetto non lo accetto perché faccio lo screen per i video vabbè vabbè faccio lo screen per i video ok fatto ai veri vabbè ma donna neanche chi ti muore oh che giocata che giocatore aiuto corri no 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 hanno vinto via no raga buttate raga però dovete Dovete fare qualcosa Bravi Cavolo grande Che bisogna fare Eus Cavolo devo prendere tutto e via Bruno ho trollato Ho trollato Scusate raga Ho trollato il game Ho trollato il game Raga ho trollato il game scusate Niente Stato difficile Raga ho trollato il game Dai l'ultima Facciamo l'ultima e più bassa Ho trollato il game raga Niente Nella prima volta ho trollato il game Ok Dove arrivare quel giorno Oh morto Dai prendi prendi Via Ho trollato il game vabbè Lascia verde bro Oh no come sei morto Come è morto Perché l'arco a bocca No 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 Non poi mi riuscite Via Si scappa Ah di nuovo Ho rischiato di nuovo Però Allora qui Madonna Oh niente E' stato molto difficile Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate Scrivetevi se non l'avete ancora fatto E ditemi se vi piace questa serie Beh Ciao